Ehi, Marcello, Marcello, un giovane! Oh, come stai? Tutto bene, e tu? Bene, bene. Beh, allora, questa la dove vai in vacanza? Eh, sto così, giochendo a pallone, mali, nutro classico, sì. E tu dove vai? No, io quest'anno vado a Nairobi. A Nairobi? Sì, a Nairobi. E dove è Nairobi? Allora, mi sta in Africa. Allora, non lo sai. Eh sì. E che hai a fare in Africa? Eh, in Africa vado a fare la settimana Mondo Unito. No, e cos'è? Eh, oh, è una settimana in cui i giovani si incontrano, giovani di tutto il mondo, per fare delle iniziative tutti insieme, vivendo la regola d'oro. Regola d'oro? Eh, ok. Ma la regola d'oro è una regola che sta in tutte le religioni, che dice, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oh, ti piace? No, fa piacere, fa piacere. Oh, senti, vuoi venire con me? Vieni a giocare a pallone, vieni a più con me. Eh, se fai tu andiamo, sì. Eh, me, sì, vieni, sì. Go, noi, ti piace, ripeto e le retze testo e riesce a villac, ma? E ti možeš nel un paizpieto tam, kde gies. Acordiaretei, shwellum, kasei che si a villac ha teira. Csaka me nateva. O che puoi fare in una settimana? Passare con gli amici? Jogare bola? Studi? Travallare? Che cosa fare attività per costruire un mondo più fraterno? Semana Mondo Unido 2014 Participe! Seja la mudanza che vuoi vedere nel mondo! Oi, amici! Come stai? Entendetevi l'United World Week per la prossima settimana? Per questo la vita, io l'ho mi chiascola pongmai a parte parte e come presenta per la cultura dell'immaginare della possibilità di una mondessera. Szavante questa l'ora sviluppare in la cultura dell'Africa. Ci sono naturalmente che possono studiare suporti, suportibili, Grazie a tutti. attività dove toque vivere per realizzare un mondo più fraterno. Contiamo con voi, ci vediamo. Grazie, ciao.